Il Consiglio d'Istituto degli Cifresa Pascoli bussa alle porte dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore. La scuola, capitanata dal DS Michele Cirino, si rivolge alla Procura della Corte dei Conti. Non quadrano, secondo l'uno e l'altra, i calcoli che porterebbero alla nascita di un nuovo istituto comprensivo sul territorio di Nocera Superiore. La scelta porterebbe, ritengono, ad una serie di danni inenarrabili. Purtroppo questo problema della scuola a Nocera Superiore nel corso degli anni precedenti è stato utilizzato, diciamolo chiaramente, come un motivo di scontro politico. Quindi noi non intendiamo entrare in questa questione, il nostro intento è quello di far sì che i presidi, le scuole, iniziano a collocare tra di loro, che ci sia un clima più destensivo. Il Comune è il proprietario degli immobili, non entra in queste scelte che non competono al Comune. Quindi ci sono altri enti che sono praticamente l'ufficio provinciale scolastico, la Regione, che praticamente determinano queste scelte. Noi come Comune, sicuramente, quello che a noi interessa è che gli alunni abbiano dei luoghi adatti e che possano svolgere la scuola serenamente, non in una situazione in cui dobbiamo mettere guelfi contro chi bellini. Per noi questo non ci appartiene, non ci apparterrà né oggi né domani. Gli incontri magari con i due dirigenti scolastici, da cui i prossimi giorni ci sono già stati? Ci sono già stati, chiediamo a tutti la massima distensione, di evitare digarazioni, di seguire le cose, le evoluzioni, e ognuno farà la sua parte. Il Comune farà la sua parte, la scuola farà la sua parte, la Regione farà la sua parte. Giusto l'ultima questione, quindi possiamo dire che non c'è questo pericolo di accorpamento, almeno qui a quest'anno, all'anno prossimo? Ma questa non è una cosa che decide il Comune. Il Comune non decide l'accorpamento. Il Comune è il proprietario degli edifici scolastici e deve rispondere all'esigenza di quella che è la scuola del territorio. Il Comune non ha nessun potere decisionale. Punto. Questo deve essere ben chiaro.